Per ZagorTV, Mauro Boselli e Andrea Artusi. Un piccolo flash per presentare Andrea Artusi, che è stato un grande disegnatore ancora, ma adesso si è messo quello a sceneggiare, a sceneggiare la Dampia. È una cosa che avevo in animo di fare da una sacca di tempo, quindi lo desideravo da sempre. Tanto per farvi vedere come qui ferve l'opera, e dietro di te, se ti giri lentamente, lentamente, fai una garellata, c'è Marco Vermi, grande disegnatore di ZagorTV. Due parole per ZagorTV? Non sono preparato, adesso l'ho arrivato dopo. Va bene, grazie mille.